Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo giocoforza con il coronavirus, con gli ultimi aggiornamenti, con i casi che sono in aumento, ma dice l'assessore alla sanità di Regione Lombardia Giulio Gallera, il sistema sanitario regge. Sentiamo proprio Gallera. I numeri continuano a crescere, il totale dei casi positivi è 2.251, i ricoverati sono 1.169, i ricoverati in terapia intensiva 244, coloro che sono in isolamento domiciliare 364, quindi si riducono rispetto al giorno prima. Fortunatamente crescono non solo i casi positivi, i ricoverati, ma crescono anche i dimessi, i guariti e sono 376, in un solo giorno 126 in più, quindi questa è una notizia molto bella. Ai me crescono anche i deceduti che sono in questo momento 98. Per ora il sistema regge e questo ne diamo atto, anche se gli afflussi nei pronto soccorso delle strutture di frontiera sono nell'ordine ogni giorno di 50, 60, 70 nuovi pazienti che entrano, tutti con complicazioni polmonari. Terzo magistrato contagiato a Milano, le sue condizioni per il momento non destano particolari preoccupazioni. Nel fine settimana il Palazzo di Giustizia verrà totalmente sanificato, nel frattempo è stata rinviata, data da destinarsi, la Stramilano. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Alberto Carreras. Per la sanificazione totale e straordinaria di Palazzo di Giustizia a Milano, decisa dal prefetto Renato Saccone, tutto l'edificio sarà chiuso nel fine settimana, sabato e domenica, ma da quanto si è saputo saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali. Oggi un terzo magistrato è risultato positivo al coronavirus e in forza alla Procura Generale. Da quanto si è saputo il magistrato della Procura Generale è stato ricoverato, ma le sue condizioni sarebbero buone e potrebbe anche essere dimesso. Due giorni fa invece si era saputo che erano risultati positivi due magistrati, uno della sesta civile e uno delle misure di prevenzione, ricoverati al sacco in buone condizioni. Nel frattempo una quarantina di persone già due giorni fa sono state messe in isolamento preventivo. Oggi le stesse disposizioni valgono per chi ha lavorato a contatto con l'altro magistrato positivo. Oggi si è appreso anche che la Stramilano 2020 è stata rinviata a data da definire a causa delle misure di contenimento per il coronavirus. La Stramilano era in programma il 22 marzo. Inutile dire che Milano sta soffrendo terribilmente. Lo si vede anche in Corso Vercelli, una via tradizionalmente punto di riferimento nello shopping cittadino. Negozi quasi deserti, pochissimi gli acquirenti e anche pochi passanti. I negozianti, che già stavano attraversando un periodo non eccezionale, sono delusi, amareggiati. Qualcuno medita la chiusura. Per tutti la speranza è che questa emergenza passi il prima possibile. È stata dimessa dall'ospedale Sacco di Milano la donna all'ottavo mese di gravidanza contagiata dal coronavirus. È la moglie del paziente 1 di Codogno, che invece è ancora in gravi condizioni. La donna sta bene e anche la bambina che porta in grembo. C'è un secondo neonato contagiato dal coronavirus, è risultato positivo al test ed è stato ricoverato agli spedali civili di Brescia, dove è in isolamento. Il piccolo sta bene, rimangono stazionari. Intanto le condizioni del neonato di 20 giorni ricoverato nel reparto di patologia neonatale dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I medici proseguono nel monitoraggio dei parametri e hanno confermato come il neonato respira in autonomia senza l'ausilio di macchinari. Non basta allentare il blocco della zona rossa, l'ha detto il sindaco di Codogno Francesco Passerini, che vedete nelle immagini. Ma sono necessari anche concreti sostegni in termini economici, in quanto per i danni alla produzione, alle attività commerciali, agli studi e anche di immagine, il nostro territorio rischia di ritornare indietro a 50 anni fa e non riprendersi più. Ricordiamo che Codogno è uno dei dieci comuni all'interno dell'area rossa dell'Odigiano per via dell'emergenza coronavirus. Dato che è stato registrato il contenimento dei contagi, l'alleggerimento delle misure di sicurezza imposte sarebbe un passo importante verso il ritorno alla normalità, prosegue Passerini. Auspichiamo che il blocco finisca il prima possibile, anche perché vorrebbe dire che i sacrifici fatti dai nostri concittadini hanno portato a risultati positivi. Da dire, da sottolineare che oggi il Governo, tramite il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha annunciato lo stanziamento di oltre 7 miliardi di euro, proprio per far fronte all'emergenza coronavirus, aiuti destinati in particolare alle imprese e alle famiglie. Il contagio, come detto, però è in costante crescita. Il 12% degli ammalati è composto da personale sanitario. I vertici sia della sanità che della politica invitano a modificare sensibilmente lo stile di vita da parte dei cittadini, il tutto per cercare di prevenire l'ulteriore diffusione del virus. La situazione del contagio da coronavirus in Lombardia è in costante crescita, lo ha affermato oggi l'assessore al welfare Giulio Gallera, sottolineando il grande sforzo per evitare la diffusione del contagio. E' dunque importante rispettare uno stile di vita prudente, poche uscite, distanza di sicurezza, non solo per gli over 65, ma per quante più persone sia possibile. I dati danno una situazione in crescita, abbiamo una crescita molto veloce, ha detto Gallera. Pensate che il 28 di febbraio avevamo 52 persone in terapia intensiva, ieri ne avevamo 209 e sono passati 6-7 giorni. Questo per dire la velocità della diffusione del virus. Non abbiamo indicatori che dicano da qui ai prossimi 2-3 giorni se ci sarà un rallentamento. Dobbiamo modificare il nostro stile di vita, si possono fare provvedimenti come la chiusura delle scuole, dei teatri, dei cinema, ma questo serve per dare alla dimensione che dobbiamo rallentare la nostra vita sociale. Dei contagiati il 12% è costituito da personale sanitario. Questo sicuramente è un problema nel problema. Nella nostra regione servono 500 medici e un migliaio di infermieri. Molti medici sono ammalati, i reparti sono sotto stress. La regione ha anche ordinato 6 milioni di mascherine che sono diventate merce estremamente pregiata. Gli esperti lo avevano già affermato che la curva dei contagi sarebbe cresciuta a marzo. Si spera che tutte le azioni di contrasto messe in campo possano in un primo tempo far diminuire l'incremento dei contagi, successivamente far calare il trend sino a portarlo a zero nelle prossime settimane a primavera inoltrata. L'arrivo dell'estate potrebbe dare una mano a tutti, ma il cammino è ancora lungo. E sono oltre 10.000 i lavoratori lombardi fermi a causa degli effetti del coronavirus sull'economia non solo nella zona rossa. È quanto emerge da un primo monitoraggio a cura del Dipartimento Mercato del Lavoro della Cisla Lombardia. L'impatto sul sistema produttivo lombardo rischia di aggravarsi, afferma Mirko Dolzadelli, segretario regionale con delega al Mercato del Lavoro. Sono particolarmente colpiti i settori del turismo, del commercio, della logistica, i trasporti, la manifattura e ovviamente i servizi scolastici, formativi e in generale i servizi. Le ricadute, se non affrontate in modo deciso e tempestivo, saranno pesanti sull'intero sistema economico, aggiunge Dolzadelli. Continua quindi il nostro impegno nel sostenere le misure condivise con Regione Lombardia nei giorni scorsi. Oggi è stato diffuso il messaggio video dell'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, rivolto ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, ai diaconi della Diocesi di Milano nel momento in cui sono state sospese celebrazioni e vie crucis di quaresima. Tra le indicazioni, ammirazione per l'impegno profuso, l'invito a seguire le norme emanate nell'emergenza e essere vicino alla gente con i media diocesani e parrocchiali. Sentiamo Anna Maria Braccini. È stato reso pubblico oggi. È il messaggio che l'Arcivescovo Monsignor Mario Delpini ha rivolto a tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i diaconi permanenti dell'Arcidiocesi Ambrosiana, che non potrà incontrare a causa dell'emergenza virus in alcuni appuntamenti già previsti di celebrazioni e nelle vie crucis previste in quaresima. Triplice il sentimento espresso nel video del Vescovo Mario. Anzitutto, ammirazione. Sento che voi siete vicini alla gente, che voi siete desiderosi di far raggiungere a tutti una parola, una presenza amica, una celebrazione del mistero di Dio. Poi l'esortazione a recepire le indicazioni delle autorità con senso civico, responsabilità e la disponibilità di chi ha a cuore il bene comune. Nessuno di noi può dire io la so più lunga del Presidente del Consiglio, io la so più lunga del Comitato Tecnico Scientifico. Io penso che tutti noi dobbiamo avere questa persuasione. È meglio essere prudenti, è meglio vigilare. Infine, non essendo possibile la preghiera assembleare con i fedeli e la messa, l'invito a farsi presenti attraverso i mezzi diocesani e locali, come radio tv e siti parrocchiali, nelle case dove vivono le comunità. Condividiamo il desiderio di vivere anche questo tempo, anche questa situazione, come una occasione. Buon cammino. Il coronavirus si è diffuso nel nostro paese molto prima dell'identificazione del cosiddetto paziente 1. Lo sostiene una ricerca dell'Università Statale di Milano e dell'ospedale Sacco. Ma i contagi, quando sono iniziati nel nostro paese? Una domanda che ci poniamo tutti, ma che soprattutto si pongono i ricercatori. Ebbene, il nuovo coronavirus circolava in Italia, ma anche in altri paesi diversi dalla Cina, diverse settimane prima che venisse identificato il cosiddetto paziente 1 dell'ospedale di Codogno. E' quanto emerge dallo studio condotto dal gruppo dell'Università Statale di Milano e dall'ospedale Sacco, coordinato da Gian Guglielmo Zender, Claudia Balotta e Massimo Galli, che ha portato a termine l'isolamento di tre ceppi di coronavirus responsabili di Covid-19, tra quelli attualmente circolanti nell'area di Codogno. L'analisi filogenetica dei primi tre genomi completi dell'agente patogeno, spiegano gli autori, ha dimostrato che risultano essere inclusi in un unico pacchetto di genomi isolati in altri paesi europei, in particolare in Germania e in Finlandia e in paesi dell'America centrale e meridionale, oltre che all'isolato italiano recentemente pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità e ottenuto nell'area dell'Odigiano. Per gli esperti la stima preliminare del tempo di origine di questo cluster corrisponde a un periodo che precede di diverse settimane il primo caso evidenziato in Italia il 21 febbraio. L'analisi in corso di ulteriori genomi, commentano, ci consentirà di ottenere stime più precise sull'ingresso del virus nel nostro paese e sulle possibili vie di diffusione. Morale, già all'inizio di gennaio o addirittura nel periodo natalizio circolava il coronavirus. E chiudiamo questa lunga pagina dedicata al coronavirus con la notizia, presa anche questa dal Consiglio dei Ministri di oggi, che il referendum in programma il 29 marzo, quello sulla possibile riduzione del numero dei parlamentari, è stato rinviato a data da destinarsi proprio alla luce dell'emergenza sanitaria che è in corso. Cambiamo argomento, cronaca. La Polizia di Milano ha arrestato un 31enne italiano per il reato di rapina. Le indagini dei polizzati del commissariato Comasina hanno permesso di ricostruire le azioni criminali del 31enne con precedenti specifici, consumate nell'ultimo mese. Obiettivo delle rapine sono stati alcuni tassisti operanti nel comune di Milano, così come l'episodio di martedì scorso quando l'uomo è salito a bordo di un taxi chiedendo di essere trasportato in una via del quartiere Comasina. Arrivato a destinazione, il 31enne ha puntato un coltello al volto del taxista facendosi consegnare il denaro in suo possesso per poi allontanarsi a piedi. Stesso modus operandi utilizzato dall'arrestato in occasione di tre rapine consumate a distanza di poche ore ai danni di due diversi taxisti e di un rider, tutte fra il 1 e il 2 febbraio scorsi, dove però ha fatto uso di una pistola accendino per assicurarsi i soldi. Si è servito invece di un manganello telescopico nell'episodio della rapina consumata il 27 febbraio ai danni di una donna filippina che aveva seguito fino all'androne di un palazzo. Dietro la minaccia dell'arnese si è fatto consegnare il cellulare della donna. Questa notte invece a Bruzzano gli agenti del commissariato Comasina hanno arrestato due italiani di 35-29 anni per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'intervento dei poliziotti nel pieno delle attività di controllo del territorio ha portato al sequestro di 180 grammi di cocaina di purezza pari all'87% e la somma di 10.800 euro in contanti che i due uomini detenevano all'interno di un box e di due automobili, anche queste sequestrate. Scattano da domani le sanzioni per i sistemi antiabbandono in auto. Non saranno più giustificati i genitori con bambini di età inferiore ai 4 anni privi di sistemi antiabbandono in auto accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore. L'obbligatorietà di munirsi del dispositivo antiabbandono per il seggiolino in automobile era scattata già dal 7 novembre del 2019. Dal 20 febbraio 2020 è possibile richiedere un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato entrando nella piattaforma www.bonusseggiolino.it e inserendo le credenziali speed del sistema pubblico di identità digitale. Il rimborso vale anche per i dispositivi acquistati in precedenza previa compilazione dell'apposito modulo e allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale. Da domani inizieranno come detto le sanzioni per chi non è ancora munito di un sistema di antiabbandono che vanno dagli 83 ai 333 euro che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni con la sottrazione di cinque punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in due anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Bene e ora vediamo dove ha fatto tappa oggi la nostra consueta rubrica del giovedì dedicata all'arte a caccia di mostre. Dopo molti anni di oscurità la storia dell'arte ha permesso di riportare alla luce una delle figure più interessanti e sorprendenti del panorama artistico europeo del 600. Fino al 7 giugno a Milano sarà possibile ammirare una cospicua serie di capolavori di Georges de Latour circa 30 opere provenienti da importanti istituzioni internazionali messi a confronto con alcuni capolavori di altri grandi del suo tempo. Palazzo Reale presenta per la prima volta in Italia una mostra ricca di opere di Georges de Latour, un artista seicentesco finora poco conosciuto al grande pubblico. Infatti fu soltanto nel 1915 che Herman Foss scrisse un articolo in cui attribuiva la paternità di tre dipinti da lui osservati in Francia proprio a questo artista. Lungo tutto il percorso espositivo emergono due tematiche predominanti l'una in una sorta di contrasto percettivo con l'altra la pittura diurna realistica e naturale insieme ad una pittura notturna dove le figure sono illuminate dalla luce delicata della candela. Osservando le sue opere emerge un forte richiamo a Caravaggio e alla sua maniera di interpretare le ombre e la luce però soffermandosi con attenzione sulla composizione delle scene si nota un certo dinamismo come tratto originale e distintivo dell'artista Loreno. Bene era questa la nostra ultima notizia vi ricordo per chi sta seguendo l'edizione in diretta delle 19.20 del nostro telegiornale che subito dopo la pubblicità spazio allo sport prima con il nostro notiziario sportivo e poi il nuovo stadio sprint all'interno del quale si parlerà della ripresa del campionato stadi aperti ma a porte chiuse quindi con partite in corso ma senza il pubblico si ripartirà dalla giornata rinviata lo scorso weekend con il Milan che novità di giornata avrebbe dovuto giocare domenica scorsa alle 12.30 giocherà invece domenica prossima ma alle ore 15 e poi in serata il tanto atteso big match tra Juventus e Inter e poi alle 20.30 in prima serata come ogni giovedì spazio ai motori griglia di partenza per cui io vi ringrazio per averci seguito ma vi invito a rimanere su Telenova buona serata